Ancora una vittoria per l'Amen Scuola Basket a Rizzo nella trasferta di Fucecchio contro la Boldrini Folgore. La squadra fiorentina, come l'Amen Sba e Colle Valdelsa, si trovava al secondo posto in classifica con due punti di vantaggio sul centro minibasket Carrara. Per questo motivo le ultime due giornate di campionato sono decisive per il posizionamento nella griglia playoff. Nella gara di andata, tra l'altro, Fucecchio si impose con grande autorità al Palasport Estra. Per l'Amen una motivazione in più per cercare di cancellare proprio quel ricordo negativo di quella prestazione. All'intervallo la formazione di Serravalli era avanti 47-35, vantaggio che però si è ridotto nel terzo e quarto tempo. La squadra retina ha comunque chiuso sul 74-70. Sono due altri punti preziosissimi per la scuola basket a Rizzo che così stacca proprio Fucecchio lasciando la 32. Al secondo posto dunque confermata la scuola basket a Rizzo con 34 punti.